Come vedo il futuro? Lo vedo attraverso l'impegno, la disciplina di ogni singolo attore, di ogni singolo artista senza la quale prima di tutto non si cresce. La disciplina è fondamentale in questo lavoro e la partecipazione. Non si può aspettare la telefonata della gente per lavorare, non funziona così. E soprattutto è importante, siamo partiti da questo, dalla formazione, è importante prepararsi ora più che mai. Questo è un lavoro che viene confuso dove si pensa che l'idraulico possa fare questo lavoro, no? Mentre noi non possiamo fare l'idraulico, è un paradosso, ma è così. E allora c'è bisogno di strutture forti, in questi ultimi anni sono sorte scuole, nate scuole come funghi, ovunque. E poi ti rendi conto che i ragazzi che escono da queste scuole devono ancora imparare a leggere. E allora c'è uno sfruttamento di persone che pensano che fare l'attore, essere un attore, sia camminare sul tappeto rosso durante i festival. E non è così, non è così. E anche gli esempi che ci vengono dati, no? Cercano di portare le persone, i ragazzi, a credere che sia tutto semplice, che quello, quella eventualmente è una fortuna che si raggiunge. Ma ci vuole tanto sudore, tanto impegno, tanta passione. E nello stesso tempo molta etica professionale da chi si prende il compito di insegnare, di tramandare quella che è la conoscenza di questo lavoro. Grazie a tutti.